Parliamo di truffe digitali e vediamo nel dettaglio che cos'è il phishing. Il phishing è un tipo di truffa effettuata sul web con la quale si cerca di adescare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente legittimo tipo una banca, un fornitore di energia o di servizi telematici. Il termine è una variante di phishing, pescare in inglese. Lo strumento più utilizzato è una semplice email scritta appositamente con lo scopo di spingere la vittima a cadere nella traccola. Basta un logo molto simile a quello originale, una parola diversa, una lettera cambiata. Sembrano email regolari ma purtroppo non lo sono. Esempio, una ipotetica società legittima che conoscete vi invia una mail. Ma guardate attentamente, il logo è leggermente diverso, spesso la lettera cambiata, uno zero al posto di una O. Se si apre la mail il link malevolo entra e il gioco è fatto. Se si inseriscono i propri dati personali, bancari o magari il numero della carta di credito, i guai che ne possono conseguire sono notevoli perché i moduli di compilazione sono falsi e finiscono nelle mani sbagliate. È tutto per Cyberworks. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti